Papa Francesco sarà a San Giovanni Rotondo il 17 marzo del prossimo anno, in occasione del 50esimo anniversario della morte di San Pio da Pietralcina. Il pontefice si recherà in visita pastorale sia a Pietralcina, nel centenario dell'apparizione delle stigmate di San Pio, e poi sarà a San Giovanni Rotondo. L'annuncio è stato dato dal direttore della sala stampa vaticana Greg Burg e confermato questa mattina ai microfoni teleblu dal vesco di San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro. Il Natale di quest'anno è allietato da questa bella notizia che Papa Francesco verrà a San Giovanni Rotondo il 17 marzo prossimo. Sarà tutta la mattinata in mezzo a noi, soprattutto visiterà Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di Padre Pio, i bambini della pediatria oncologica, poi celebrerà la messa sul piazzale della Chiesa Nuova di San Pio, incontrerà la comunità dei Cappuccini e quindi sarà tra noi a portarci, a confermarci nella fede. La cosa bella è che Papa Francesco vuole radunare tutti i figli spirituali di Padre Pio per rinnovare il carisma di Padre Pio, che è stato un uomo di grande fede ma anche un uomo di grande carità. L'ospedale di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza, è una testimonianza vivente del carisma e anche, come dire, il miracolo vivente di Padre Pio.